nome e cognome patrizia lo popolo età posso anche non dirlo professione operatrice olistica ayurvedica spa manager hobby hobby il lavoro la mia passione miglior pregio e peggior difetto miglior pregio la bontà il peggior difetto la bontà in quale lista ti candidi noi quale candidato sindaco sostieni angela antonio angarano perché perché ritengo che sia una persona onesta corretta l'ho conosciuto due anni fa merito all'organizzazione di un evento che ho fatto qui a biceglie che ho ripetuto quest'anno e ho scoperto veramente una persona a modo educato ma una persona di una grande generosità da un voto agli altri candidati sindaco non me la sento di dare nessun voto in quanto non conosco di persona i nuovi candidati sindaci perché ti candidi mi candido perché ho deciso di affiancare appunto angela antonio angarano per la stima che propone i suoi confronti la prima criticità da affrontare secondo me non c'è una prima criticità ma ce ne sono tante e chi si mette poi in gioco come me in questo momento che ho deciso di candidarmi lo fa per il bene della città e dei comuni cittadini un punto del programma che ti sta a cuore il turismo perché essendo io una spa manager mi rendo conto che arriva almeno nella mia spa arriva tanta gente da fuori quindi ci sono molti problemi da affrontare possiamo dare alla nostra città un valore aggiunto le prime parole che diresti in consiglio comunale noi possiamo farcela perché i cittadini dovrebbero votarti perché perché dovrebbero votarmi io spero che mi votino per la persona che sono ciao Grazie a tutti.